Non ce l'ha fatta il marittimo di origine filippina di 41 anni, rimasto vittima questa mattina di un grave incidente sul lavoro, verificatosi a bordo di un galleggiante della Micoperi nella banchina dell'area portuale di Ortona. L'operaio sarebbe stato colpito alla testa da un gancio, liberatosi dopo il cedimento dell'imbracatura utilizzata per spostare i carichi all'interno dell'imbarcazione. Sul posto sono arrivate l'ambulanza, l'eliambulanza e gli sanitari che hanno subito cercato di stabilizzare l'uomo. È stato il 118 ad avvisare la Capitaneria di Porto che è intervenuta a supporto dell'attività ispettiva. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi, come ci ha riferito anche il comandante della Capitaneria Francesco Scala. Il giovane marittimo è deceduto subito dopo il trasporto nell'ospedale di Pescara. La Procura ha disposto le indagini per chiarire tutti gli aspetti del gravissimo incidente.